Vabbè, dai, diciamoci la verità, diciamola tutta, cerchiamo di essere onesti, questa partita non serviva a niente, lo sapevamo, però io me la sono goduta, comunque questa sera me la sono guardata proprio perché c'era un focus inerente a alcuni calciatori della Juventus, della prima squadra della Juve di questo momento, dato che giocavano anche i titolari, la mia paura a qualche giorno della partita con l'Inter era proprio di perdere qualche giocatore per infortunio lo stesso Chiedini che ha giocato 70 e rotti minuti, De Sciglio che era titolare, oppure Locatelli e Bonucci che sono subentrati, ho avuto l'ansia, l'ansia vera per tutto il tempo, ora finalmente lo possiamo dire, accantoniamo la nazionale, la mettiamo da parte almeno noi tifosi, poi calciatori che fanno parte della nazionale italiana se la porteranno dentro ancora per un po' questa grossa delusione, era importante vincere per un discorso di morale questa sera e per non cadere nell'oblio più profondo abbiamo vinto una partita abbastanza inutile, nel nostro playoff al mondiale c'è andato Cristiano Ronaldo, abbastanza prevedibile che la Macedonia poi non riuscisse a fare impresa, però una doppia impresa della Macedonia non sarebbe stata per niente male, se dobbiamo perdere dalla Macedonia almeno che vadano loro il mondiale, invece no, almeno questo l'altra volta, almeno ce l'ha andata la Svesta, questo giro non ci sono nemmeno andati, vabbè prendiamola così, tra l'altro poco fa, un paio d'ore fa abbiamo registrato io, Kino e Lello, un video in cui appunto dico che avrei guardato la partita anche perché si parlava di alcuni giocatori legati alla Juventus, non solo di proprietà della Juve come quelli che abbiamo citato prima, ma legati alla Juventus, al futuro della Juve per via del mercato di quest'estate, nomi principalmente due che erano titolari questa sera dell'attacco della Nazionale Italiana, uno Zagnolo, uno Raspadori. Ora, sarà che da qualche settimana, da qualche giorno ero entrato nel mood di se devo scegliere tra uno dei due la valutazione di Zagnolo è sopra i 50 milioni, invece quella di Raspadori è tra i 30, 35, 40 milioni, pagare, che ne so, 60 a Zagnolo o 35 a Raspadori non ci penso su nemmeno un secondo. Sarà perché l'unico dubbio che avevo su Raspadori era collegato alla duttilità, visto che lo stesso Dionisi ha detto che quando Raspadori gioca largo nel tridente un po' di difficoltà ce l'ha perché non è un'ala vera e propria, ma anche stasera ci ha dimostrato che in realtà l'ala la può fare anche perché comunque gioca praticamente sotto punta, gioca un po' più stretto nel tridente, non va a prendere tutta l'ampiezza. Sarà perché ormai ero entrato nella prospettiva di dire ma Raspadori potrebbe essere un colpo che a certe cifre contenute non sarebbe mica male, non come erede di Dybala 1 a 1, scala 1 a 1, ma come giocatore da aggiungere all'attacco della Juventus, visto che perderemo sia Dybala che Bernardeschi, forse pure Morata, dato che non è nostro, ripartire da lì mi avrebbe fatto piacere e infatti tac, guardate, c'è una cosa certa sola nella vita, che se la Juventus prova a iniziare a ragionare su un giocatore del Sassuolo che gioca anche nella Nazionale Italiana, quel giocatore lì farà due gol nella partita successiva, come è stato con Locatelli, questa è stata l'Europeo, la Juve vorrebbe Locatelli, Sassuolo quant'è, ma guarda facciamo che, tac, doppietta, stessa cosa stasera per Raspadori, io rimango di quell'idea, a me Raspadori piace e non poco, la cosa che mi piace di Raspadori è che fa sempre la cosa giusta, anche se è una cosa facile e sempre utile al contesto di squadra, quindi davvero secondo me sarebbe un buon colpo, poi qualcuno mi sta dicendo ma no, non possiamo prendere Raspadori, è interista, ragazzi nel calcio tutti hanno una preferenza, perché tutti sono stati bambini, tutti hanno un tifato, ovviamente Raspadori ora che è professionista, dovesse mai arrivare alla Juventus, il lato interista lo lascerebbe semplicemente da parte, un po' come aveva fatto all'epoca Locatelli quando giocava nel Milan, Locatelli che ha sempre detto guarda sono Juventino, ci ha fatto gol, abbiamo perso 1-0 gol di Locatelli e comunque è esultato come un matto, perché è giusto che sia così, alla fine per loro è un lavoro, è un business, è un impegno vero e proprio professionale, quindi assolutamente. Io sono ancora in cima al carro di Giacomino Raspadori, vediamo se effettivamente sarà la Juve, poi non è che mi aspetto che Raspadori arrivi alla Juve e trascini la Juve, però sicuramente un colpo intelligente, un ragazzo giovane che sta dimostrando tanto bene in Serie A quest'anno, che aveva già fatto comunque delle stagioni importanti per essere all'esordio, o comunque negli esordi del campionato maggiore italiano, campione d'Europa da aggregato dove non ha praticamente mai giocato, ma anche l'altra sera quando è entrato ha mostrato dei movimenti interessanti, quello che ci ha messo un po' più voglia stasera, vero e proprio MVP della partita con la doppietta, non si porta a casa il pallone perché ne mancava uno, un giocatore che a me piace, vedremo se effettivamente sarà un giocatore del futuro dell'Iventus oppure no. C'è un discorso su Donnarumma invece, il discorso su Donnarumma va fatto perché purtroppo i due gol che abbiamo preso stasera certo non sono solo colpa di Donnarumma, per dire, calcio d'angolo ragazzi, siamo stati fermi, piantati completamente, però ricordate quando questo qui, questo signore qui, Wojciech Szczesny a inizio anno, non so, non si vede adesso perché non ha messo a fuoco, Szczesny a inizio anno contro Udinese aveva fatto quella doppia cappella, poi col Napoli, cambia troppo velocemente la narrativa legata ai calciatori. Szczesny era stato etichettato come Brocco e io sono convinto, sono certo, lo stesso Donnarumma ora verrà etichettato come Brocco, perché quando la scorsa settimana ho iniziato a parlare di Giorginio, ecco che in tanti iniziati, eh ma no, ma Giorginio in realtà non è forte, è scarso. Ragazzi, Giorginio da titolare si è vinto Champions Europeo e anche da protagonista, lasciatemi aggiungere, in tutte le competizioni, poiché quest'anno abbia sbagliato due rigori con la nazionale, che non si sia andati al Mondiale, se vogliamo prendere Giorginio come capo respiatorio, vittima segregata, mettiamoci lui, va bene, non è un problema, però da qui a dirmi che Giorginio è scarso, secondo me ce ne passa tanta da accorso dei punti, così come all'epoca non era scarso Szczesny. E quando parliamo di portieri è ancora di più, questa cosa avviene ancora di più, perché bisogna stare attenti, purtroppo il portiere è un ruolo delicato, un ruolo particolare, ora che Donnarumma si sia pentito del PSG, io questo non ve lo so dire, sicuramente lo vedo un po' più appesantito a livello psicologico rispetto a quest'estate, dove era stato MVP dell'europeo, perché anche qui non è che quest'estate è MVP dell'europeo, adesso invece è uno scarsone, che sono usciti dalla Champions col PSG, anche per un grave errore Donnarumma, stasera prendiamo dei gol per colpo Donnarumma, l'altra sera tra i koschi, che effettivamente Donnarumma poteva... non è che è scarso, teniamoci, se potessi scegliere di prendere Donnarumma, lo farei tuttora, perché sono assolutamente convinto delle qualità di questo portiere, che probabilmente in questo momento sta attraversando un periodo o no, esattamente come aveva fatto Cesni all'inizio dell'anno, poi io mi tengo volentieri Cesni se non c'è la possibilità di prendere Donnarumma a condizioni vantaggiose, però sicuramente Donnarumma è un portiere che mi piacerebbe vedere la Juventus, anche perché sei vero come vero che la Juventus sta cercando di ripartire proprio da qui, dalle basi italiane, da dei giocatori che fanno parte della Nazionale Italiana, che sono titolari o che possono essere titolari del domani come appunto Zagnolo e Raspadori, io Donnarumma lo prendo, lo prendo molto volentieri, non sono mai d'accordo con questo discorso di voler etichettare positivo o negativo che sia, perché adesso io vi ho parlato di Raspadori, ma non sono qui a dirvi che Raspadori assolutamente sarà fenomeno del domani della Nazionale Italiana, sto dicendo, se devo scegliere un calciatore in questo momento, giovane, italiano, ad andare a prendere anche a un costo contenuto, probabilmente Raspadori, probabilmente Raspadori, perché Scamacca, me lo dicevo anche oggi, abbiamo Giavlaovic, quindi non è il tipo di giocatore che ci serve, a meno che tu non voglia giocare con due punte di peso, ma sarebbe una Juve un po' particolare, dopo dovremmo andare a puntare tanto sugli esterni, Zagnolo, secondo me costa tanto, la Roma vuole troppo per quello che è effettivamente ad oggi Nicolo Zagnolo, che è un calciatore che quest'anno ha fatto poco, anche qui non metto in dubbio le qualità di Zagnolo, metto in dubbio di acquistare Zagnolo dopo due crociati, dopo un anno un po' così, dove è tornato a titolare, ha una cifra sopra i 50, 60 milioni di euro, poi magari lo acquisteremo e farà esattamente la stessa roba di Chiesa, dove io non mi aspettavo assolutamente potesse avere un impatto così grande a quella cifra lì. Quindi la buona notizia di questa sera, signori, senza ombra di dubbio non ci sono stati infortuni, tutta la Juventus sta bene e adesso ci mettiamo una pietra sopra, da domani iniziamo a parlare davvero dell'Inter che con i ragazzi abbiamo registrato un video abbastanza intenso con una cronostoria di quella che è stata la stagione della Juventus cercando di tirare fuori una morale e avvicinandoci a un Juventus-Inter che sarà una partita molto molto importante. Fatemi sapere se vi siete divertiti stasera guardando Italia io sinceramente sì, poi ne ho preso due gol da polli che si potevano evitare ma siamo in un periodo in cui la nazionale effettivamente non sta benissimo e stasera si è dato spazio a giocatori che non avevano giocato così tanto lo stesso Cristante che è sì campione d'Europa è stato uno dei giocatori più utilizzati da Mancini anche quest'estate nei ricambi si trova il gol dell'1-1 con un bel colpo di testa su un bel cross di Biraghi quindi io direi che tutto sommato la serata di stasera ce la portiamo a casa la mettiamo in saccoccia con la speranza che possano essere appunto Raspadori Zagnolo Scamacca lo stesso Chiesa quando tornerà i giocatori del domani a cui fidarci là davanti per l'Italia poi centrocampo ragazzi io e Giorginio ancora non lo metto in discussione Verratti men che meno Lucatelli per me gran giocatore Barella gran giocatore Stesso Tonali gran giocatore quindi anche centrocampo non siamo messi male vedremo se dietro sarà l'ultima partita di Chiellini dato che è vero ci sarà la supercoppa non è nemmeno detto che alla fine Giorgio Chiellini sarà titolare o che comunque sarà convocato potrebbe anche essere addio poi magari l'ha già detto adesso mentre parlo non ho visto il post partita perché ero qua a registrare il video Italia messa da parte focus principale Juventus proiettati sulla Juventus da qui alla fine stagione perché manca poco e potrebbe anche diventare un finale di stagione scoppiettanto interessante di Stato